sono contenti insomma di questa serata perché perché siamo qui per parlare di un paese e diciamo la scusa ultima è questa un'idea di paese che è un progetto una mostra che inaugurerà appunto a salzana la settimana prossima il 23 15 di tutti invitati ma ne parleremo dopo la cosa che ci interessa veramente parlare di questo questo mito per i fotografi insomma un argomento che lega tantissimo a qualunque livello chiunque si occupi di fotografia e quindi stasera abbiamo davvero dei grandissimi esperti padroni di casa un po di diluzzare di tutta la sua eredità quindi ho il piacere appunto di presentare simone terzi che introdurrà la serata che è direttore della fondazione un paese è appunto proprio la casa di tutto quello di cui si parlerà anche se la maggior parte insomma di foto di post trend non sono ovviamente all'uzzara però tutto quello che è successo dopo a cominciare dalle foto della moglie di stand sono appunto patrimonio della fondazione quindi direttore della fondazione poi c'è laura gasparini che è stata curatrice della fototeca della biblioteca panizia reggio emilia ed è docente adesso all'accademia di belle arti a bologna e curatrice e tra le altre mostre tra le cose che ha fatto sicuramente importante walker emans nel 2016 e luigi ghiri anche pensare per immagine 2014 oltre alla alla mostra che già accennava francesca che stende zavattini un paese la storia e l'eredità sicuramente stasera ne sentiremo e poi ascolteremo giulio iaccoli subito dopo che è professore associato di critica letteraria di letterature comparata all'università di parma e che si è sempre occupato di geografia letteraria delle narrazioni delle arti novecentesche ha un curriculum lunghissimo scrive dirige insomma tra le cose più recenti ha scritto aver di lettere idee e stili del paesaggio letterario con l'editore cesato nel 2016 e luci sulla contea d'arzo la prova della critica tematica vi dicevo tantissime altre cose mi piace ricordare che dirige insieme a dati between con unica press online e studi culturali dell'editore il mulino inoltre con federico bertoni dirige la collana sagittario discorsi di teoria e geografia letteraria quindi io non rubo altro tempo lascio la parola a simone e vi auguro buona serata sarà sicuramente una grande serata forse prima francesca come sempre ci dovrà dire qualcos'altro ok scusa simone devo dare come sempre un po di un po di indicazioni allora adesso spengo i microfoni di tutti meno ok ok non mi sono spenta e e do alcune indicazioni i microfoni vi chiediamo di tenerli spenti almeno per la durata degli interventi se è possibile invece accendete il video così ci vediamo ed è più carino e per le domande e commenti vi chiediamo di dare la chat in questa parte di incontro di modo che noi possiamo tenere appunto le domande i commenti e poi rivolgere ai nostri ospiti e come ha detto si è già detto prima e come si dirà dopo questo incontro anticipa il precede l'evento che avremo qui a sarzana sabato prossimo l'inaugurazione della mostra un'idea di paese di cui poi vi metterò il link ed è anche il primo di tre appuntamenti sui fototesti il prossimo è in programma già domenica prossima alle 21 su zoom e quello successivo è un workshop del 31 ottobre entrambi sono con federica chiocchetti e domenica prossima ci sarà anche federico clavarino sono due giovani professionisti assolutamente interessanti se non li conoscete quindi speriamo possiate partecipare e infine scusate devo fare tre veci di spazi e ricordarvi che abbiamo la chiusura delle iscrizioni del corso di storia fissata stasera e moltissime attività proprio nel contesto di un'idea di paese che per noi vuole anche essere uno stimolo per imparare da tutti voi ospiti compresi e provare a fare qui in lunigiana e a sarzana qualche cosa di fotografico letterario insomma qualche che portare avanti delle indagini e delle ricerche e spero di aver detto tutto vi auguro buona serata e per qualsiasi cosa sono sono qui passo la parola a timone terzi grazie allora grazie a me l'onore di aprire questo incontro che poi introduce allora la mostra di un'idea di paese del 23 ottobre che possiamo dirlo non l'abbiamo detto neanche nel pre nella pre presentazione che in realtà sono due anni che cerchiamo di portare avanti e finalmente siamo riusciti perché con questa interruzione come tutti sapete insomma i tempi si sono allungati notevolmente che cosa porterà a fondazione un paese in mostra fondazione un paese insieme a spazi fotografici presentano partono da quest'idea si era partito da quest'idea di presentare un paese e l'eredità culturale che un paese aveva generato quindi partendo dai patrimoni di fondazione un paese adesso noi stiamo vedendo sullo schermo una fotografia di esel kingbury strand che ritrae proprio il marito pol strand che sta fotografando adesso questa francesca me l'ha messa subito quindi facciamo già uno scoop di questo tipo di fotografia perché in realtà vi dico che questa fotografia scattata nel 1953 non è a luzara quindi non è a luzara ma è nella vicina su zara addirittura alberto ferraboschi nell'introduzione del libro appunto un paese strand e zavattini la storia le eredità citava anche una lettera di zavattini a lusetti quindi a valentino lusetti che chiedeva proprio informazioni su dove era stata scattata questa foto perché chiedeva proprio informazioni su chi ci abitava se c'era qualcuno che aveva partecipato anche alla lotta di liberazione nella resistenza quant'altro in realtà io ho scoperto proprio giusto ieri che è una cosa di ieri che questa perché sono stato in visita a questa casa era la casa di vino villani vino villani su zarese pubblicitario tra le altre cose inventore di del logo della motta e del panettone motta quindi anche lui trasferito a milano negli anni trenta e questa era appunto la sua casa e questo è un dipinto che lui aveva fatto giovanissimo era nel 1915 il dipinto villani del 1898 quindi aveva 17 anni e la cosa particolare che si vede anche nella fotografia poi che strand mette in un paese per questa foto è in un paese nell'edizione alinari credo sia pagina 98 94 ci sono delle sassate che si vedono proprio i segni di sassate che colpiscono i volti dei personaggi che ben riconoscete che sono Garibaldi al centro abbiamo il re Vittorio Emanuele e Cavour questi erano degli episodi che erano successi a cavallo della prima guerra mondiale quando esatto quella che sta facendo vedere Davide dopo magari ce l'ho anch'io possiamo farla vedere e a cavallo della prima guerra mondiale questi questa casa è adiacente proprio attaccata alla ferrovia e arrivavano i convogli pieni di feriti e di che rientravano a casa e quindi c'erano le donne e le famiglie che aspettavano e diciamo che il segno di tirare delle sassate contro questi personaggi era una sorta di reazione ai confronti al potere di chi aveva portato questo disastro della prima guerra mondiale questo è un aneddoto appunto che ho scoperto ieri ma è un perché anche durante il 2010 nelle celebrazioni che c'erano state sui centocinquant'anni nel 2011 centocinquant'anni della nascita della della Repubblica e dello Stato italiano non della Repubblica ma del Regno d'Italia quindi dell'Italia unita dalla regione c'era arrivata proprio una richiesta di sapere questa foto dove dove era stata scattata oggi questo però non c'è più c'è questo a fresco non c'è più è stato coperto perché si era deteriorato con una un'altra cosa appunto di Vino Villani questa è oggi la casa museo di Vino Villani insomma si partì da qui ma io adesso faccio un passo indietro ne avrei voluto parlare dopo ma il passo indietro è che dicevamo Luzzare la Luzzare del 1953 una Luzzare che Paul Strand e Cesare Zavattini raccontano fotografo mi raccontano e descrivono nel momento di un profondo anche cambiamento di un passaggio da una società prettamente principalmente contadina nel 1953 viene presentata la 600 ad esempio e ancora la televisione non c'era quindi una società contadina dove c'erano pochissime automobili ma fotografata nel momento in cui ci sarebbe stato questo grande cambio un cambio sostanziale di vita nella società non solo chiaramente contadina luzzarese ma in tutta la società italiana ci sarebbe stato proprio un cambio repentino l'ho detto l'ho accennato appunto l'inizio della programmazione della televisione dal 1954 mentre sulla vita delle città ricorda anche Guido Crainz non aveva ancora avuto un peso rilevante nella vita invece delle campagne con lo spostamento di tantissimi che invece di continuare alla fine di una giornata di lavoro ritrovarsi nelle aree si spostavano nei bar nei caffè che avevano la televisione per dire. Strand e Zavattini poi questo sarà argomento credo principalmente dell'intervento di Laura Gasparini poi anche di Giulio Alcone si incontrano la prima volta nel 1949 in realtà per un convegno dei cinema di cinema neorealisti in cui Zavattini era uno dei principali relatori ma Strand partecipò perché aveva fondato dal 1932 una casa di produzione cinematografica la Frontier Film e quindi qui si conoscono diciamo la prima volta anche se è una breve conoscenza. Si tornerà, si torneranno a rivedersi solamente nel 1952 quando c'è l'idea da parte di Einaudi di realizzare una serie di libri fotografici anche su un pulso di Zavattini con una collana che avrebbe dovuto chiamarsi Italia mia ma che avrebbe dovuto principalmente indagare le città quindi le città italiane c'era già un progetto che doveva prevedere Napoli, Milano, Roma in cui Zavattini aveva già ipotizzato proponendo questa cosa a Einaudi di coinvolgere registi quali di Sconti, Rossellini, Edoardo di Filippo per Napoli. La proposta invece di Strand che arriva in questo momento è che era la ricerca anche di qualcuno che lo potesse anche introdurre, uno scrittore che potesse introdurlo al contesto italiano, sposta inevitabilmente anche questo concetto di Italia mia che lo porta appunto sul discorso dei paesi anche con attenzione al regionalismo che in quegli anni era molto vivo e presente. Ancora prima dobbiamo dire che Italia mia era un progetto che Zavattini aveva pensato per il cinema. Quindi un paese in realtà è un incontro tra diciamo due punti, due carriere che si incontri nella piena maturità ma che avevano delle premesse diverse. Strand forse finalmente trova in questa scommessa di Luzzara quella che è la definitiva anche realizzazione di un progetto che a lungo aveva inseguito e che aveva quasi abbandonato, che era quello di realizzare una sorta di ritratto tra il ritratto di una piccola comunità in cui ci fosse fosse evidente anche questa simbiosi tra l'uomo e il territorio e la trova a Luzzara, questo riesce a trovarla a Luzzara. Per Zavattini quindi abbiamo detto il progetto, lui lo ricorda in una lettera anche del 1958 e ricorda questo progetto di Italia Mia che non è poi riuscito a realizzare perché come sappiamo un paese rimane un unico, rimane l'unico numero in audio appunto di questa collana inaugurata nel 55 e Zavattini dice che si era accorto di non conoscere l'Italia se non attraverso dei preconcetti o dei libri, no? E gli sembrava che solamente un paziente inoltrarsi nei luoghi, queste sono le parole che usa, nelle persone gli interessi di tante persone che avevano così tante cose in comune con lui fosse l'unico modo di cercare di entrare nella storia. Quindi è questa volontà di descrivere il paese ma inoltrandosi appunto nel territorio, nel paesaggio e appunto raccontando la vita delle persone. C'era inevitabilmente uno sguardo che portava soprattutto su una dimensione sociale e comunitaria. Ora andando rapidamente perché poi in mostra ci saranno le foto di Esel Kimberlin Strand che era la terza moglie di Paul Strand che accompagna Paul Strand in questo lavoro di questa campagna sulla fotografica a Luzzara, ci saranno questi scatti che erano stati regalati dagli Strand a Zavattini che a sua volta li fece avere dalla biblioteca di Luzzara. Credo che poi per la prima volta furono esposti a Reggio Emilia nel 1988 e da lì uno studio importante di Luigi Ghiri e Paolo Costantini che realizzarono un catalogo che si chiamava Strand Luzzara e che per la prima volta andava ad indagare proprio cronologicamente quello come era nato questo progetto di un paese andando proprio a prendere in mano quelle che erano le lettere tra Strand e Zavattini, poi ripubblicate nel 2006 da un bel volume curato da Elena Gualtieri che si chiama archività dell'immagine Paul Strand di Cesare Zavattini. Quindi ci saranno in mostra le foto di Esel Strand. Che cosa succede? Succede il primo clic, possiamo dire, il primo cambiamento di prospettiva perché questo avrebbe potuto essere, come vi ho detto, un numero unico. non va avanti questa collana ma succede che nel 1976, come ben sapete, Gianni Berengo Gardin realizza Un Paese vent'anni dopo. Ma come ci arriva? Ci arriva in realtà attraverso la conoscenza di Zavattini che conosceva già da qualche anno perché Zavattini aveva curato qualche prefazione di libri di Gianni Berengo Gardin tra il 1971 e il 1973 sui naif italiani. Quindi un catalogo che ripropone le opere di questi autori che in quel momento erano molto alla moda, i naif, in seguito poi alla morta anche di Antonio Rigabue e alla nascita del Museo Nazionale delle Arti naif a Luzzano nel 67 e Gianni Berengo Gardin va a fotografare utilizzando il metodo di Dentro le case, altro libro da lui realizzato, va a fotografare gli artisti all'interno dei loro studi. Quindi entra più in contatto anche con Zavattini, viene a Luzzare, viene nel territorio in cui c'era una massima proliferazione di questo tipo di arte e chiaramente arrivano anche a parlare di fotografia. Ne avevano probabilmente già parlato ma da qui c'è un po' una sorta di provocazione, tra i due forse un gioco, ma Gianni Berengo Gardin pur ammirando profondamente il lavoro di Stranding di un paese, disse a Zavattini che forse quello non era il lavoro che lui avrebbe voluto fare. Zavattini immaginava chiaramente, lo scrive anche negli anni 50, che avrebbe voluto mandare dei giovani anche fotografi in giro per l'Italia a documentare quella che era l'Italia uscita dal secondo conflitto mondiale, ma con delle macchine molto più agili. Sappiamo che Strand utilizzava un altro tipo di macchina, faceva un altro tipo di fotografia, un cavalletto, una Graflex di legno molto pesante e quindi forse era molto incuriosito anche da questo modo il lavoro di Stranding. Zavattini ha queste parole di Gianni Berengo Gardin e gli dice beh allora tu andrai tu a fare la tua Luzzara. Berengo Gardin prima dice di no, ma poi alla fine questo libro si farà, uscirà per la collana letteratura di Inaudi, anche questo è significativo, in un formato quadrato e con uno stile che Gianni Berengo Gardin dice più sessantottino, quindi con un tipo di anche dimensione e di impostazione anche della fotografia molto diverso dal libro di Un Paese e questo ritorno sui luoghi, questo tornare a Luzzara quindi vent'anni dopo sostanzialmente inaugura una storia nuova perché Luzzara di Zavattini insomma è anche un luogo dove si torna e dove molti poi da questo momento sono tornati. Chiaramente però bisogna fare molta attenzione perché tornare non vuol dire reiterare identicamente quindi un'esperienza, questo è anche un pericolo identitario molto pericoloso, insomma un equivoco molto pericoloso, ma forse anche quanto verificare, qualcuno l'ha fatto appunto, quanto nella contemporaneità questa rappresentazione del passato, anche mitica del passato sia rimasta. Luzzara diviene quindi un palinsesto in cui si scrivono anche delle narrazioni altre perché da questo momento poi c'è un lavoro anche di Olivo Barbieri che si colloca nel 1996 commissionato da Anna Calvenzi per la rivista Specchio, quindi Olivo Barbieri fotografa Luzzara ma anche qui poi sentiremo anche dal lavoro di Gasparini, Olivo Barbieri era già stato Luzzara per altri viaggi, per altri percorsi e poi ci saranno Stephen Shore nel 1993 incaricato da Linea di Confine che realizza un progetto su Luzzara e poi ancora Marcello Grassi Fabrizio Orsi nel 2004 fotografa Luzzara per un progetto che si chiama Luzzara 50 anni e più, a 50 anni di distanza dal lavoro di Strand e Zavattini e Vittore Fossati nel 2007, David Maialetti che è un fotoreporter di Filadelfia che è stato colui che ha realizzato un reportage a Luzzara nell'ambito della mostra Fall Strand che è stata realizzata a Filadelfia nel 2014, quindi abbiamo visto quanti sono stati questo tipo di ritorni, quelli che vi ho citato saranno tutti autori che saranno presenti in mostra a Sarzana, quindi al Castello. Io adesso mi fermerei, lascerei poi la parola a Laura e a Giulio per poi riprenderla dopo magari se ci sono domande o altro di cui si potrà parlare. Lasciamo subito la parola a Laura che spiegherà molto bene la vicenda complicata del libro innanzitutto e poi anche quello che è successo dopo. Adesso recuperiamo un po' di link. Grazie Simone e lasciamo la parola a Laura. Non ti sentiamo. Ok, ok, buonasera, grazie, grazie di questo invito, grazie Simone di questa lunga presentazione così io andrò più veloce. avevo preparato delle slide e chiedo a Francesca di condividerle e comunque volevo iniziare con una con uno scoop perché è in Audi, ho telefonato l'altro giorno in casa editrice, ripubblicherà un paese. I tempi ancora non si sanno, dicono a breve, si spera insomma Natale, quindi il Francesco, scusa. No, devi condividerle tu. No, perché le avevi abbassate. No, ho solo stoppato, bisogna rifare la condivisione. Ecco, perfetto, le vediamo, le vediamo. Dunque, dall'inizio. Ok, perfetto. Ok, grazie. E quindi si spera almeno per Natale di avere questo volume che voi sapete è introvabile sul mercato del modernariato, ha raggiunto dei prezzi molto alti perché è diventato un oggetto da collezione. Vado veloce in questa esposizione perché Simone ha anticipato tanto e lo ringrazio che appunto praticamente in un paese così come un altro libro su Napoli sono gli unici due libri fotografici che sono nati da questo progetto di Italia Mia che era pensato appunto con una serie di film. I registi che hanno aderito con entusiasmo sono stati Vittorio De Sica, Roberto Rossellini, Lucchino Visconti, Domenico Rea e molti altri. E lo scopo di Zavattini era quello di raccontare la vita delle persone comuni nei grandi agglomerati urbani. Nell'archivio Zavattini conservato presso la biblioteca Panizzi di Reggio Emilia appunto vi è questo progetto che mi piace mostrare, così come abbiamo anche sottolineato in mostra, che il primo fotolibro di questa collana di Italia Mia era la via Emilia, la via Emilia che poi come sapete è stata ripresa da Luigi Ghirri e da un gruppo di altri fotografi della sua generazione con il testo letterario di Gianni Celati appunto nel 1984. Quindi questo tema che ricorre appunto non è l'Emilia Romagna, il paesaggio fatto di emergenze storiche, ma di confini. Vedremo quali sono i valori diciamo così estetici che hanno fondato questo libro e soprattutto questa collana. Quindi vista però la complessità di realizzare questi docufilm, il produttore cinematografico De Clima ha ogni responsabilità, ma Zavattini come abbiamo imparato a conoscere non deborda e quindi progetta una collana di libri fotografici. Si rivolge al suo editore Valentino Bonpiani nel 1952 e Bonpiani è molto entusiasta ma si era lanciato molto sulla letteratura. In mostra noi abbiamo curato anche una sezione che cosa leggevano gli italiani. Proprio in questi anni appunto esce il giovane Pasolini e altri scrittori e quindi lo indirizza a Giulio Einaudi. Giulio Einaudi che come giovane casa editrice appunto desidera aprirsi alla fotografia e soprattutto in particolare era interessato Giulio Einaudi al lavoro di inchiesta di Zavattini. Ecco questo per rispondere un po' anche alla domanda che era stata fatta prima, no? Cioè apre le porte anche all'antropologia? Sì, vedremo quali sono poi stati i sociologi e gli antropologi che hanno preso il modello di questo libro, soprattutto del testo di Zavattini che non le fotografie di Strände. E quindi Zavattini intraprende un ritmico carteggio con Einaudi, carteggio che è conservato in parte all'archivio Zavattini di Reggio Emilia e saluto Alberto Ferraboschi e Arturo Zavattini che sono stati informati di questo breve speech, ma buona parte appunto di questo carteggio è conservato presso l'archivio di Einaudi a Torino, l'archivio di Stato di Torino. E quindi Zavattini è felice di questo incontro con Giulia Einaudi e dice a me pare che si tratti di fare dei libri neorealisti. Ecco il neorealismo, siamo negli anni 50, però questo neorealismo che è ancora vivo appunto nella testa e nell'anima di Zavattini. E lui inventa una nuova categoria estetica veramente interessante che poi abbiamo scoperto a partire dallo studio e dall'analisi di molti photobook americani, soprattutto dei photobook d'inchiesta, a differenza del photobook come oggetto d'arte, mentre era la meta appunto di Strand di fare di questo libro non tanto un libro d'inchiesta, un photobook d'inchiesta, ma appunto un libro d'arte per i collezionisti. Quindi il cinema diventa libro e questa è una categoria diciamo così molto importante, estetica molto importante, perché detterà il ritmo narrativo delle immagini, il formato del libro, la sequenza delle immagini e il valore del testo. Il valore del testo non soltanto come contenuto, vedremo, ma anche come valore grafico. Il testo come valore... e quindi la metodologia di lavoro per la realizzazione del progetto è basato strettamente sul dialogo tra scrittura e immagine. Zabattini afferma che tutti questi libri, quindi La via Emilia, Un giorno a Genova, I bambini di Napoli, Roma, i ferrovieri, i muratori, vedete anche categorie proprio della gente comune, dice che dovrebbe essere uno scrittore vero e proprio occuparsi del testo. però, purché questo scrittore o questo poeta doveva passare dall'ufficio di statistica. Ecco, questo linguaggio fotografico di cui io sono certa, ci parlerà Giulio Iaccoli, diventa una cifra importantissima per la fortuna critica di questo volume. Gli autori. Gli autori devono essere degli scrittori famosi, ma non i fotografi. Zabattini non pensava a dei fotografi famosi, ma pensava di affidare a dei fotografi dilettanti degli anonimi cittadini. Vi era nota anche la posizione di Zabattini di non dare i pastelli e le matite ai bambini dell'elementare, ma anche la macchina fotografica, no? Proprio perché esprimessero una fotografia non autoriale e quindi questi libri fotografici dovevano essere illustrati da anonimi cittadini che avevano il compito di documentare fotograficamente la realtà che loro vivevano. E questo, leggo la frase di Zabattini perché è interessante capire qual era la sua ottica e poi vedremo quella di Strende. E Zabattini dice che voleva soprattutto mandare in giro per l'Italia dei giovani. Uno si sarebbe fermato a parlare un po' con un muratore usando anche la sua laica o la sua condor, un altro con un meccanico, un altro con chi incontrava, quindi un lavoro senza progetto, no? A sentimento. Ma Inaudi stringe su questa partita e quindi nel 52, grazie alla mediazione del regista documentale Virgilio Tosi, che salutiamo perché è stata una figura di grande riferimento per la mostra del 2017, appunto individuano in Strende che come ha già detto Simone III appunto Zabattini stesso incontrò nel 49 a Perugia. E quindi cosa fa Strende? Strende si reca in Italia, questo è un ritratto di Virgilio Tosi, si reca in Italia che per visitare i centri minori, no? le città più importanti come Sperlonga, come Gaeta, come Gorino, Bergamo, Latri, Carrara e rimane molto colpito e turbato dalla misera dei villaggi che lui incontrava. Lui non pensava da americano, di cultura modernista, come i segni dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Questo era inimmaginabile appunto per un cittadino americano. E quindi Zabattini coglie questo profondo turbamento appunto di Strende e lo porta nella sua piccola patria, cioè Luzzara. E' interessante leggere che cosa dice Strende nel 1958, quindi qualche anno dopo l'uscita del libro che, come ha detto Simone, è appunto uscito nel 1955, iniziano a lavorare nel 1953, per vicissitudini che andremo velocemente a raccontare, esce nel 1955 e nel 1958 Strende dice visivamente di primo acchito Luzzara sarebbe stata l'ultima scelta, paesaggio piatto, architettura blanda, la negazione del pittoresco all'ennesimo grado ed ecco le categorie estetiche del modernismo americano. Il paesaggio pittoresco americano è quello della pittura della seconda parte dell'Ottocento che questi geografi e questi artisti vanno a ritrarre queste meraviglie della natura, ma anche sono le fotografie di O'Sullivan oppure di un fotografo coevo a Strende di Ansel Adams appunto dal 1940 in poi, che fotografa queste meraviglie appunto della natura americana e questo è il pittoresco, l'idea di pittoresco che Strende dice nel 1958. Cosa trova Luzzara? Trova questi paesaggi, no? Questi paesaggi che è molto molto semplici, molto anonimi, quasi con una geografia fatta dai contadini, dal lavoro quotidiano dei contadini e dal passare delle stagioni e appunto nel 1952 Strende si avventura per questo paesaggio blando, ripeto sono tutte categorie estetiche quasi ottocentesche, moderniste e questo vediamo Strende con Zabattini in una fotografia di Arturo che ringrazio di nuovo ed ecco invece a destra Strende nei campi, nei lintorni di Luzzara, fotografato dalla moglie Eisel. Il rapporto di Strende con i luzaresi è molto particolare. Strende era una personalità molto forte, un idealista, ha rivoluzionato la tecnica fotografica, ha fondato questo movimento insieme alla straight photography, quindi voi che vi interessate di fotografia insomma sapete che cosa significa appunto nella storia della fotografia e anche nella storia della tecnica perché lui praticava ancora i procedimenti ottocenteschi come la fotografia al latino e così via. Quindi era una fotografia meditativa la sua, lui ricordate che Zabattini voleva mandare un giro per l'Italia dei fotografi con una laica, con una condor quindi di piccolo formato, invece a Luzzara va un fotografo americano raffinatissimo, coltissimo, che pensa di fare di queste immagini e fotografie da collezione e fotografa con un grande formato. E ovviamente cosa dice dei luzaresi? La gente qui è meravigliosa ma ti stanno addosso mentre fotografano come le mosche sul pane. Cioè lui era infastidito da questa, mentre per gli luzaresi, e tra questi luzaresi c'era anche Claudio Parmigiani che aveva cinque anni e ringrazio ancora Simone per aver proiettato quella foto di Strand con il telo nero perché Claudio Parmigiani, famoso artista, era affascinato da questo uomo che si nascondeva, nascondeva il volto e il tappo sotto questo telo nero e lui si immaginava una magia particolare, una magia che lui ha rappisato appunto proprio nel suo lavoro dedicando due volumi molto importanti. Ecco l'immagine di cui appunto vado veloce perché c'era già mostrata Simone e questi sono i dettagli di queste, sono immagini preziosissime e come dicevo prima la tecnica di Strande, Strande utilizzava prevalentemente una vecchia De Ardolf 8x10, una Gaflex 5x7 e una Rekaflex 35 mm molto più leggera e i negativi che lui realizzava a Luzzara venivano sviluppati e stampati nella camera oscura di Arturo Zavattini a Roma e proprio in questa camera oscura, un luogo di creatività per eccellenza è stato fatto il menabò di questo libro. La moglie invece, Esel, utilizzava una 6x6 ed ecco queste sono queste immagini che descritte mirabilmente da Zavattini che ha aperto non soltanto nella fotografia perché noi abbiamo parlato di Berengo Gardini abbiamo parlato di Girri ma dovremmo parlare anche di Guido Guidi proprio perché così come ha ben spiegato Zavattini sullo stile di Strande che dice calmo guarda l'oggetto poi subito il cielo in goia immagini come un formichiere si poteva dare perfino il caso che la gente lo supponesse affrettato troppo confidenziale nel vedere preparare la macchina davanti a una cosa e poi abbandonarla lì nella strada come rimarcando la qualsiasi età che è l'eccezionalità. Ecco la fotografia e la poetica di questo libro stanno cominciando a prendere forma la qualsiasi età e questo questa categoria estetica che poi detterà la fortuna critica e che riprenderanno Girri nel 1981 una importantissima mostra alla Galleria d'Arte Moderna di Bologna e poi concelati e così via e quindi questo non vi voglio annoiare però è interessante vedere il rapporto con lo spazio e col tempo nella fotografia di Paul Strande quando deve fotografare la gente queste sono immagini richieste dallo stesso Zavattini e dallo stesso editore in audio lui si ritrae quindi va sulla finestra di questi edifici per fotografare la folla non si vuole più mischiare con i personaggi con gli abitanti di Luzzara l'impaginato l'impaginato è molto la progettazione del libro appunto d'accordo tra i due autori Zavattini e Strande e quello di basare le immagini fotografiche sul testo e il testo cosa sono? Zavattini si inventa questa nuova modalità di inchiesta che sono interviste dirette ai suoi compaesani e ampie didascalie dice Zavattini e dice Strande comunque per Zavattini questi testi è la voce della sua gente e quindi lo scrittore deve solo raccogliere le interviste e sistemarle tra l'altro il redattore di questo libro è il giovane Italo Calvino quindi voi immaginate tutto il lavoro fatto anche sul testo che ci spiegherà Giulio Iacoli ma per Strande invece non è soltanto un contenuto no, no affatto è proprio un elemento grafico in relazione al formato della pagina ed ecco qua il tema sappiamo che all'inizio il formato del libro doveva essere come le liriche cinesi cioè queste librettine di raccolti di poesie di tutte le varie culture del mondo quindi di piccolo formato con una pagina con la pagina destra l'immagine piena e la pagina sinistra bianca e invece Strande forza la mano all'editore forza la mano a Zavattini e vuole un formato così come lo vediamo come lo apprezziamo ora e Strande giustifica tutte queste sue esigenze della qualità di stampa la fotogravure mettono appunto con un grafico di Bologna il carattere senza grazie le gabbie tipografiche sono sempre accuratamente controllate da Oreste Mollino che era il direttore editoriale appunto dell'Einaudi perché per lui un paese e qua leggo la sua citazione che dice una cosa è fotografare la gente e un'altra è rivelarne l'essenza umana così che gli altri ne siano toccati i grandi maestri della pittura lo facevano come se fosse la cosa più naturale del mondo e con estrema semplicità di mezzi questo libro un paese viaggia su quella strada o perlomeno ci provo e vedete quali sono le categorie estetiche opposte a quelle di Zavattini la storia vado veloce perché non voglio rubare tempo al nostro all'intervento successivo ecco il formato sì il rapporto con l'immagine e il testo non è nuovo in Strand soprattutto nell'esperienza precedente la France des profils con il testo di Claude Roy è stampato in photogravure quindi un'altissima qualità di stampa e Claude Roy in questo modo post surrealista scimmiotto le forme delle immagini di Paul Strand con la scrittura gioco che è surrealista che a Strand proprio non piacque assolutamente infatti si dimenticò molto presto di questo libro che invece è diventato un pezzo forte nel collezionismo appunto dei photobook perché tutta questa attenzione di Strand era soltanto ovviamente l'amore per la proprio proprio linguaggio fotografico per il collezionismo che negli Stati Uniti era molto forte non certo in Europa ma perché per Strand il libro si poneva come estensione della propria visione e quindi non poteva essere un formato che non afferisse a esaltare il linguaggio fotografico il testo perché ci misero anche tanto tempo ad uscire a pubblicare questo libro perché il testo di Zavattini doveva rientrare in quella famosa labbia tipografica pensata da Strand e Oreste Molina in questo carteggio tra Strand e Zavattini tra Zavattini e Inaudi Strand dice che ogni modifica delle sue fotografie viene vissuta proprio con una grave mutilazione invece erano adattamenti editoriali allora Zavattini cede la propria autorialità e quindi lascia al giovane Italo Calvino il compito di modificare i suoi testi per adattare a questa gabbia tipografica ideata da Strand tant'è vero che Luigi Malerma disse che proprio in questo libro il rapporto di Zavattini col testo e di conseguenza con la pagina non è soltanto un'esperienza ma un'avventura quindi vedete quali altre categorie e altre situazioni si sono aperte la copertina fu affidata a William Golden che era un amico di un grafico americano quello per intenderci che ha progettato l'occhio della CBS tuttora utilizzato la copertina ed è stata scelta questa immagine dei ritratti perché guardano direttamente in macchina e quindi anche questo gruppo familiare molto studiato fotograficamente anche dalla moglie da Eisel che sono fotografie veramente molto interessanti tanto è vero che Ghirvi disse le fotografie di Eisel è la grande sinopia di questo libro no? perché proprio l'idea e molte idee sono state anche suggerite da Eisel e il libro come sappiamo in bianco e nero l'unico elemento del colore è questa copertina verde menta che però è il frutto di un editore di un errore scusate la grafica della copertina prevede il titolo prevede il nome dei due autori e dell'editore ovviamente e scompare per volere di Paul Strand il titolo della collana perché disse in maniera molto sferzante che erano parole inutili di questo Zabattini ne soffrì moltissimo ma pur di far uscire i libri per far uscire il libro si adattò la retro copertina invece è un'immagine viva senza margine bianco appunto che fosse l'emblema di quella società contadina che sta mandando incontro appunto a una modernizzazione e gli scatti di strand di questo volume sono circa 120 è stata fatta una selezione il menabo è andato perduto e vado veloce su queste slide perché Simone ha raccontato appunto l'avventura di Zabattini con Gianni Berengo Gardini nel 76 viene ripreso questo concetto della qualsiasità proprio da Luigi Ghiri e soprattutto da Gianni Celati che dice che alla base di tutti i viaggi in Italia e dell'esplorazione lunga sulla via Emilia c'era proprio il concetto di Zabattini che lui chiamava appunto qualsiasi età per chiudere proprio perché prendo il testo di Claudio Parmigiani che come vi dicevo lo ha seguito lui aveva Claudio aveva cinque sei anni e diceva che riprendendo queste immagini appunto di strand rivede riconosce dormienti le forme primigenie che dischiudendosi in lenta metamorfosi si sarebbero nel folto degli anni trasfigurati in opere e sono andata a trovare poi strand per ritrovare me stesso e questo in un libro realizzato nel 2007 e il secondo appunto nel 2008 io vi ringrazio per l'attenzione scusate se sono andata veloce ma... Grazie Laura, sottolineo che hai sforato ma noi siamo molto contenti che tu lo abbia fatto passo la parola a Giulio Iaccoli e spero che anche lui possa andare un po' lungo potremmo di più della loro sapienza a te Giulio Grazie, troppo troppo buono e troppo fiducioso nel mio caso sento ecco adesso prendo a parlare anch'io dunque scusate se il mio è un intervento aniconico ma davvero sono molto... non sono parole come dire formali ma sono davvero riconoscente, molto riconoscente a Simone Terzi prima e poi a Laura Gasparini che hanno davvero raccontato tanto tutto direi di quello che è l'esperienza di un paese io avevo da diciamo studioso di letteratura preso alla lettera quest'idea dell'eredità di un paese e diciamo entro ed esco da questo libro per certi versi tanto influente tanto... che tante tracce ha depositato nella cultura italiana ma non solo degli anni successivi è però anche irripetibile straordinario per certi versi si potrebbe dire ma qui la faccio davvero da curioso di fotografia da osservatore di fotografia che quel tentativo di aggiornare la Luzara di vent'anni dopo con Berengo Gardin abbia comunque dovuto fare i conti non solo con una realtà rappresentata, una realtà fotografata che era completamente cambiata ma forse davvero non ha avuto dalla sua naturalmente la straordinarietà di questa collaborazione sia pure collaborazione complessa, difficile nei termini che appunto Laura ci stava appunto richiamando quindi grazie davvero per questa parte introduttiva cerco invece dalla mia parte proprio anche perché non ho ausili grafici di davvero rimanere il più possibile dentro i termini che mi sono stati dati anche perché si tratta di vedere questi prolungamenti, queste continuazioni dunque anzitutto credo che sia sotto gli occhi di tutti un fenomeno che potremmo definire macrostrutturale, editoriale e cioè la proliferazione di immagini all'interno di forme tra la narrativa e la non fiction che popolano diciamo le nostre librerie e gli scaffali delle librerie negli ultimi tempi, diciamo che è un fenomeno che in un qualche modo l'ultimo ventennio ha visto per certi versi proliferare e amplificarsi con una particolare intensità e che potrei dire ha pressoché sempre o quasi coinvolto e ha interessato diciamo quelli che sono personaggi, protagonisti nella letteratura italiana contemporanea di quello che definiremmo una specie di svolta territorialista o una svolta verso il racconto territoriale. Certo, da intendersi in senso molto ampio perché la svolta suddetta coinvolge autori diversissimi tra di loro sia a livello generazionale che a livello proprio di contenuti, di poetica, ma insomma basti pensare che ci sono davvero testi singolari che vedono appunto riprendere questa cooperazione fototestuale che se non sono fototesti in senso proprio sicuramente coinvolgono la collaborazione tra letterato e fotografo, letterata e fotografa. È un fenomeno quindi diciamo molto ampio che sicuramente mi premeva sottolineare anche se le premesse possono apparire lontane, anche se molto spesso proprio anche il procedimento in termini proprio morfologici l'incontro fra scrittore e fotografo prende ad avere delle forme molto diverse, penso alla magnifica merce di Schiti, penso ai reportage da un deserto absolutely nothing di Vasta e Fazel. Anche se i testi in un qualche modo ci sembrano avere portato l'attenzione del lettore verso risultati molto innovativi, molto lontani da quello che può essere stato un episodio come quello rappresentato da un paese, va detto questo, che oggi abbiamo bisogno forse di una grammatica, di un modo di raccontare anche le stesse evoluzioni della letteratura del novecento che parta, che proprio proceda raccontando quello che le storie letterali non raccontano. Non lo dico in termini, come dire, rivendicato, eccessivamente rivendicativo, rivendicativi reclamando per esempio per Zavattini, cosa che sarebbe lecitissime, anzi molto apprezzabile, forse un'attenzione, uno sguardo critico approfondito rispetto invece a, diciamo, l'imbarazzo che certe storie letterarie presentano di fronte alla polidricità e alle diversi linguaggi artistici e performativi e della regia con i quali si è confrontato, con i quali si è cimentato Zavattini, ma proprio una storia, diciamo, culturale, oltre che letteraria, non dovrebbe prescindere appunto dal cinquantacinque di un paese per vedere i germi appunto di una serie di prosecuzioni, una serie di atti creativi che mi sembra davvero si situino tra gli snodi culturali imprescindibili da raccontare appunto quando letteratura e fotografia, per lo meno nel nostro paese, si sono intrecciate tra di loro, hanno dato vita a cooperazioni. Una, quella che ho, diciamo, io mi sono occupato davvero tangenzialmente purtroppo di Zavattini, un microprofilo anni fa per una per una storia della letteratura promossa dall'Università di Parma e per appunto questa che ho definito cooperazione fototestuale. Naturalmente parlo di interventi, parlo di ricerche di un po' di anni fa, però quello che mi fa molto piacere è che in realtà fototesto, nello studio, diciamo, soprattutto della teoria della letteratura, è diventata una categoria molto interessante. ha dato vita ad alcuni volumi come quello di Carrara, Giuseppe Carrara, che mi sembra si chiami storia vista e che è uscito di recente, direi l'anno scorso da Mimesis, e ha diversi progetti a livello, perlomeno quelli di cui ho conoscenza europeo. Quindi mi sembra che i tempi siano maturi per riconsiderare anche quei territori di confine, quelle vicende che davvero difficilmente, grazie mille vedo che è stato postato il link appunto al libro di Carrara, però quello che preme davvero è vedere che quelli che erano questi angoli, diciamo di storia letteraria che venivano rubricati sotto davvero categorie di esperimenti o davvero visti nella loro singolarità difficile da raccontare da parte della critica letteraria, oggi viceversa diventano episodi fondamentali che devono riguardare definizioni adeguate, accurate e aggiornate da parte della critica letteraria. Chiusa questa parentesi di metodo, allora ho parlato di questa disseminazione che proviene da un paese e che investe sicuramente molto presto una serie appunto di fototesti dove davvero la cooperazione letterato-fotografo mi pare tangibile, mi pare se non paritaria, senza dubbio pensata a partire da prospettive che ragionano insieme, per esempio, di una realtà territoriale, di una realtà locale, offrendo appunto prospettive che sono quelle date dai mezzi, dai linguaggi a disposizione, torno a dirlo, dello scrittore e del fotografo. Sono già stati, diciamo, affacciati alcuni fondamenti, potremmo dire, di questa specie di genere conteso o intergenere del fototesto che davvero presuppone antecedenti, riferimenti sia nella storia della fotografia che anche in quello del lavoro, della letteratura, talora in forma appunto più rapida, se vogliamo secondaria o ancillare nei confronti dell'espressione fotografica, dall'altra viceversa invece in un rapporto di mutua collaborazione, volta davvero a un'integrazione, una sintonia e un accordo fra i due linguaggi particolarmente tangibili. Naturalmente ci sono, diciamo, lo direi in maniera molto provvisoria, ma per dare un'idea, insomma, di quello che intendo, ci sono degli estremi che vanno dall'album fotografico, per intenderci, dal libro di fotografia inteso appunto classicamente con un'introduzione, con delle note a margine, con delle parole di accompagnamento dello scrittore. A viceversa la forma del reportage, e quindi ci situiamo in un campo che è quello della non-fiction primariamente, cioè davvero dove però c'è un elemento che mi preme sottolineare che è un'esigenza documentaria comune a chi scrive e chi racconta per immagini, allo scrittore e al fotografo, dove allora le immagini vengono molto spesso inquadrate, vengono essere richiamate in forma appunto di testimonianza, di documentazione, che serve per così dire a corredare di ulteriori sviluppi per immagini appunto quanto è contenuto nel diario di viaggio, o nel reportage di viaggio dello scrittore. Riporto due episodi, insomma, che mi sembrano molto, due o tre episodi, che mi sembrano molto in linea per ragioni di filiazione diretta con l'episodio di un paese, o che invece appunto presentano solo delle affinità più limitate e che per tuttavia ci permettono di riconoscere questa comune tensione documentaria. Uno l'ha già debitamente inquadrato, Laura, è il profilo delle nuvole, che deve la cooperazione appunto anche qui per certi versi irripetibile nella storia dei rapporti tra letteratura e fotografia, tra Gianni Celati e Luigi Ghirri e che è concepito anche nel formato, come vedete, sotto la forma appunto di album dove a farla da padrone sono le immagini di questo attraversamento del po'. Naturalmente cosa c'è alle spalle? C'è l'esperienza che è già stata richiamata di Celati che si mette per così dire a traino di questa comitiva di protagonisti della fotografia del nuovo paesaggio italiano con tra fine degli anni settanta e i primi anni ottanta e che porta a viaggio in Italia. Come appunto ci ha ricordato mi sembra proprio Laura, ci vede questa cooperazione una pattuglia, potremmo dire, di fotografi con al seguito un letterato che davvero desume, apprende moltissimo dallo sguardo dei fotografi per compiere quella che, diciamo, chi conosce l'opera di Gianni Celati non può non vedere come una virata, che è una virata nella scrittura che coinvolge appunto i suoi libri degli anni ottanta, 1985 i racconti, i raccontini di narratori delle pianure, 1987 le quattro novelle sulle apparenze e forse quello che è il testo più ispirato, che ha maggiormente davvero modificato anche i modi di guardare, raccontare al nuovo territorio e ai paesaggi in trasformazione in quieti dell'Italia di fine millennio e oltre verso la foce. Ora, proprio per dare l'idea, diciamo, di come questa filiazione prenda ad avere dei caratteri ben riconoscibili leggo velocissimamente da un'intervista, o meglio, da un incontro che è stato trascritto con gli studenti dell'Università di Bergamo una domanda che proviene da, direi, Andrea Cortellessa, che è uno dei due furatori di questa intervista insieme a Marco Berpoliti e che domanda, i narratori delle pianure contiene una cartina, come viene detto, insomma, speriamo che non ci siano troppi geografi all'ascolto, una carta, cosiddetta carta delle pianure, perché ci hai messo quella cartina nel libro? E Celati si spinge a dire, ah, la cartina, uno dei motivi assoluti per cui l'ho messa è perché c'erano tutti quei nomi di paesini che avevo attraversato, paesini per lo più spopolati, che nessuno conosceva, in paesaggi ufficialmente considerati d'ultima categoria. Per questo ho voluto metterli in prima pagina, tutti quei paesini di mille abitanti, duemila abitanti, dove nessuno andava e che tutti i bolsi della nostra cultura sono pronti a disprezzare. In questo io mi sento zavattignano fino in fondo e come zavattini penso che tutto il qualsiasi dei posti sia il sale della terra. Con zavattini, ricorda, e anche questo è un dettaglio non privo di significato, con zavattini ci siamo incontrati qualche volta e ci siamo capiti subito. Avevo appena pubblicato Guizzardi, Le avventure dei Guizzardi, che in realtà è poi del 75-76, non mi ricordo mai di preciso, ma è davvero di qualche anno prima rispetto all'85 di Narratori delle pianure e dopo ho fatto molto di quello che ho fatto pensando a lui, con i dispiacere che non ci sia qui. C'è un altro punto in cui viene sollecitato Celati più avanti ed è a parlare del suo esordio come narratore, ma dietro la macchina da presa. Il suo cinema, che prende vita appunto con la fine degli anni Ottanta, che si prolunga con un bel film documentario l'omaggio a Ghirri, il mondo di Luigi Ghirri, è però l'esordio di qualche anno prima, strada provinciale delle anime, effettivamente sembra davvero in un qualche modo riprendere questa sorta di avventura verso la qualsiasi età di uno spazio appunto non prestabilito, nel quale muoversi, nel quale dirigere delle comparse, molto spesso sono zii, cugini, parenti dell'autore che sono stati piazzati su un pullman e spediti appunto all'avventura a commentare quello che vedevano scendendo in tappe appunto soprattutto tra la campagna ferrarese verso il delta del Po. Ma insomma, in questo documentario sui generis, in questo film altamente sperimentale con il quale Celati esordisce alla regia dice, con mia zia, siamo andati in cerca della chiesetta dove lei e mia madre erano state battezzate quasi 80 anni prima e ci sono state lunghe discussioni su chi fosse il parroco, 80 anni prima. Era quello che predicava Zabattini, la qualsiasi età della vita. Io non sapevo fare niente, né riprese né montaggio, ho imparato in fretta, io credo che quello che faccio con la macchina da presa abbia sempre un sapore dilettantesco. Poi dice chiaramente non riguarda questo giudizio quelli che sono i tecnici che sono bravissimi con cui ho lavorato. Ecco, non per diciamo proiettare indebitamente all'indietro quest'ombra del dilettantesco, però c'è senza dubbio, e quindi su un libro come Un Paese che invece sappiamo è regolato da un dialogo fittissimo, da scelte compositive e anche editoriali, come ci ha ricordato Laura, davvero ma quasi mai casuali, sempre molto, anzi, oggetto di una discussione che appunto non potremmo che definire certosina sugli aspetti appunto di compositivi e di integrazione tra il linguaggio letterario e il linguaggio fotografico. Però senza dubbio questa dichiarazione di sintonia, questa appunto proclamazione di un trovarsi a proprio agio con l'idea del qualsiasi come sale della terra è qualcosa che ha influito, che ha inciso in modo particolare in quello che Celati ricorda, ha ricordato davvero in più occasioni, come anche quello che è l'ascito di Luigi Ghirri, e cioè l'idea che Luigi Ghirri piantasse la macchina da presa in un punto specifico del paesaggio e questo fosse regolato appunto da una visione, da quella che Celati chiama un'intensità dello spazio atmosferico, della luce, che allo scrittore era per certi versi imperscrutabile, incomprensibile. Celati ha desunto dalla fotografia, dal viaggio in Italia, con i fotografi del nuovo paesaggio, da Ghirri, e potremmo dire anche da Zavattini, questo senso davvero delicatissimo di accordo tra il qualsiasi della scelta locale, la qualsiasità dell'intuizione di che cosa inquadrare, e quelle condizioni atmosferiche, quelle condizioni contingenti che invece regolano appunto l'apertura dello sguardo. Questo è davvero un debito che fa sì che appunto non sia, come dire, un'apertura retorica, quella che vi ho riportato, ma che effettivamente ci rende conto del fatto che rende conto del fatto che le categorie consuete della critica letteraria, l'interpretazione dei fatti letterari che ci proviene dalla storia della letteratura, appaia oltremodo insufficiente. Dobbiamo davvero guardare alla fotografia non solo come a una arte che viene a essere affratellata alla letteratura in alcuni esperimenti e con un paese come, torno a dire, nucleogeneratore, di un discorso che davvero si avvia a entrare in profondità nei fatti, nelle trasformazioni letterarie che sarebbero venute, ma proprio a guardare la fotografia davvero come una serie di spunti, di fonti, di immagini appunto che entrano nel codice genetico della letteratura contemporanea. Vi parlavo di altri episodi, naturalmente è stato citato prima da Simone Terzi, ma Vittorio Fossati nei primi anni 2000 con Giorgio Messori scrive questo viaggio in un paesaggio terrestre che davvero in più punti appunto fa riferimento a un paese, alla collaborazione tra Strand e Zavattini come una sorta appunto ancora una volta di pretesto o avantesto, cioè un lavoro di sincronizzazione appunto nello sguardo ai luoghi che quasi non passa da Luzzara, però che, o meglio, che prediligia appunto alcune aperture e altre diciamo linee fotografiche seguite in precedenza come per esempio le fotografie di Ghirri e un certo genere appunto di foto inquadrate dai paesaggi della pittura, Cézanne, i paesaggi appunto francesi della montagna Saint-Victoire oppure Vermeer e le vedute appunto olandesi. Però all'ilà di questo lavoro che è sempre secondo, diciamo, cioè di ritornare sui luoghi, sulle prospettive paesaggistiche della pittura, c'è un dialogo che viene attuato del quale Messori e Fossati sono fortemente consapevoli, che è un dialogo tra scrittura e fotografia che non può non porsi nel solco, non può non procedere nel solco appunto di un paese. L'ultimo per il momento insomma di questi diciamo testi a cui avevo pensato è un bellissimo reportage che però ci porta appunto nella direzione di quell'estremo un fotoletterario che è costituito dal reportage con una fotografia invece che si pone al servizio di degli incontri raccontati all'interno di questo via diario di viaggio. Il libro è del 18 e si intitola Gli spaesati ed è un appunto un reportage dalle zone martoriate dai terremoti del centro Italia e quindi con parti asimmetriche destinate a Lazio Amatrice all'Abruzzo alle Marche e direi l'ultima ovviamente è l'Umbria naturalmente che mi mancava e che però appunto ancora una volta se non ci pone direttamente di fronte a una dichiarazione di figliazione diretta da un paese naturalmente ci dice molto di un modo di guardare alle realtà sociali di interrogare il volto che guarda in macchina delle popolazioni degli abitanti sopravvissuti ricollocati in realtà territoriali provvisorie in nuove zone appunto che hanno sostituito i paesi dilagnati dal sisma e che davvero comunque ci parla molto appunto di quel racconto per immagini di quella interpellazione tra volto e memoria degli abitanti che era quella che era stata compiuta comunemente da Zavattini Strand in un paese c'è un altro discorso io ho parlato di una tensione documentaria della scrittura che mi sembra sia l'elemento di più forte continuità tra l'esperienza di un paese e le scritture che davvero dagli anni Ottanta da questo modello costituito dalla cooperazione tra Ghirvi e Celati si snoda fino a oggi ecco accanto alla parola di documentario accanto alla forma invece consueta per chi si occupi di non fiction ovviamente del reportage c'è un altro termine che Zavattini stesso ricordava in un'intervista piuttosto nota del 1950 basta con i soggetti a Elio Petri e gli parlava di questa immagine del diario ma ancora una volta sentita in una maniera che consuona particolarmente con l'immagine diaristica di come ha concepito il diario come racconto d'osservazione Celati con Verso la Foce nel 1989 diceva Zavattini penso al diario come all'espressione più completa e più autentica del cinema non un certo diario ma tutto ciò che conoscenza degli altri e di noi stessi immediata e non predisposta naturalmente possiamo intuire siamo nel 1950 queste parole come immediatamente attive nel lavoro che tra il 53 e il 55 un paese viene mettendo in opera viene definendo proprio a diretto contatto con le vite degli altri cioè in questo raccontare una popolazione sentire dei sogni per esempio da ragazzina lavoro la filodrammatica di quella che ora è una panettiera del paese per dirne una tra le tante storie raccontate che si intrecciano tra le diverse famiglie c'è un'attenzione appunto che prende però paradossalmente una forma qui non chiaramente propriamente diaristica come quella del diario in senso proprio però che appunto è già tutta contenuta nell'idea di diario di Zavattini l'idea di un'attenzione non del diario come trasposizione diretta ma come apertura a fare entrare nelle proprie note nella propria osservazione appunto lo torno a dire la conoscenza degli altri e di noi stessi qualcosa che ha ancora una volta della sperimentazione qualcosa che potremmo riportare anche l'idea e alla teorizzazione del pedinamento che sta dietro naturalmente a tanto dei soggetti a tanto delle indizioni di Zavattini per ovviamente la stagione neorealista ma che appunto si trasponde credo possa traspondersi bene anche a caratterizzare quel tipo particolare di sguardo attento testimone partecipe curioso nei confronti dei soggetti raccontati che vediamo in opera in un paese se non ho sforato tantissimo allora testimonerei in chiusura proprio di un incontro inaspettato Anirno la scrittrice protagonista davvero di forme autobiografiche che oggi leggiamo molto che ogni tanto risuona anche come nome di candidata al Nobel in un diario tenuto dei suoi incontri sull'aero sui treni che fanno la scuola tra Parigi e il circondario intitolato Journal de l'Or e quindi Diario del Fuori racconta una serie di anni che sono quelli che vanno dall'85 al 92 e degli incontri casuali avvenuti metropolitana o appunto su questi treni suburbani gli ipermercati la spesa in questi nuovi centri commerciali e gli anni che ha vissuto e che continua a vivere oramai ultraottantenne da più di trent'anni da più quasi quarant'anni se ben ricordo in questa ville nouvelle in questa città senza storia nata appunto nei soborghi parigini che è Sergi Pontois c'è un bellissimo documentario che parte dai testi di Ernaud e che a lei è dedicato e che parte proprio da una sua citazione J'ai aimé vivre là ho amato vivere qui ma quando vi parlavo appunto di questa predisposizione ad accogliere l'altro che è in realtà mi sembra appunto il filo rosso che coniuga un paese alle scritture successive beh forse ne troviamo traccia ma torno a dire inaspettatamente nell'esordio di questa scrittura quando cioè Ernaud parla di un occhio fotografico che è quello che l'avrebbe retta e quindi i suoi diari sono osservazioni che vogliono in qualche modo rubare all'atto del fotografo la capacità di impadronirsi della realtà e raccontarla c'è però un altro aspetto queste sono tutte parole presa in presa rubate in presa diretta sono incontri con persone ci tiene a sottolineare Ernaud che non avrebbe mai più ascoltato non avrebbe mai più incrociato cioè in un qualche modo un elogio della straordinarietà dell'incontro dell'incontro il relato dell'incontro che non conduce a nulla ad aperture a una conoscenza per esempio più approfondita ma leggo davvero per raggiungere la conclusione ho evitato il più possibile perdonate traduco all'impronta di mettermi in scena e di esprimere l'emozione che è all'origine di ogni testo al contrario ho cercato di praticare una sorta di scrittura fotografica del reale nella quale le esistenze incrociate conservassero la loro opacità e la loro potremmo dire enigmaticità e c'è una parentesi che ci riguarda più tardi nel vedere le fotografie che Paul Strand ha fatto dagli abitanti di una cittadina italiana perdoni stimone perdonino tutti luzzaresi luzzano fotografie se si sente avvincenti dalla presenza violenta quasi dolorosa gli esseri sono qui sono solamente qui io avrei pensato di trovarmi dinanzi a un ideale inaccessibile della scrittura ecco non è casuale credo che appunto in una scrittura che aspiri a farsi altro da sé che aspiri a farsi fotografia un occhio narrativo un occhio documentaristico nel reportage che vuole essere un occhio fotografico compaia ancora una volta purtroppo privo del riferimento a Zavattini però senza dubbio un libro che credo non abbia terminato insomma di esercitare la propria suggestione sugli scrittori certo suggestione che prende strade torno a dirlo molto diverse che parla appunto a fotografi e scrittori che cooperino con anche volontà di emulazione volontà di confronto con questo modello anche diverse noi abbiamo naturalmente il modulo potremmo dire Celati Ghirri che rimane forse quello di massima intensità di nel tentativo appunto di ridare a quella scelta casuale di un luogo sul mappamondo che non c'era a Zavattini nell'introduzione un respiro una continuità appunto anche a tanti anni di distanza ma abbiamo anche ad altre latitudini il potere suggestivo esercitato appunto da questa casualità della scelta di Luzzare un autore così lontano anagraficamente appunto da questi luoghi come Strand che viene a davvero determinare questa suggestione potente su un'autrice come Anir che naturalmente più di noi anche per il fatto che il giornale che io sappia non è stato tradotto in italiano conoscono per le sue forme autobiografiche per il racconto della sua infanzia e prima giovinezza in Normandia ma che forse in realtà proprio anche in questi diari mostra davvero una non avrei altri termini per definire una modernità di intuizione una modernità di sguardo ragguardevoli e che in realtà appunto ci riporta a questo punto di partenza a questo luogo originario l'avevo definito appunto nucleo generatore che è rappresentato dalla Luzzara di Strand e Zabattini grazie bellissimo sì dovremmo fare un applauso no è stato bellissimo ho ordini dalla regia per diciamo anche metabolizzare le cose di cui abbiamo parlato quindi abbiamo parlato insomma di Zabattini di Strand di Uzzara del libro e ora anche molto di letteratura e Stefano Ressa l'ha già acquistato il libro dell'Ernò quindi perfetto chiederemo un piccolo contributo giusto perché tutti possiate avere poi delle domande per i nostri ospiti a Emanuela Setti di Fondazione Alinari per la fotografia che come forse sapete come forse è stato detto ha ripubblicato un paese nel 97 eccomi qua allora io parlo appunto a nome della Fondazione Alinari per la fotografia che è la nuova fondazione istituita l'anno scorso dalla regione toscana che è la nuova proprietaria del dell'archivi Alinari e quindi anche del del marchio di Alinari quindi in questa fase io parlo di edizioni che sono state fatte da Alinari negli anni 90 alla fine degli anni 90 vi spiego quali addirittura essendo il nostro archivio in questo momento ancora in un cavo cioè presso a difendere quindi anche la biblioteca non la potevo consultare ho chiesto gentilmente a Davide Marcesini che ringrazio per l'invito se mi domandavo delle fotografie perché non ce l'ho io a caso ho un altro poi vi dico quale mi mandavo le fotografie del colofone perché non mi ricordavo bene la partecipazione della fondazione Aperchure come era in quale ruolo ecco e infatti perché appunto sia la biblioteca come l'archivio attualmente si trova ancora presso a difendere in attesa per il prossimo anno di essere finalmente collocato nella sede di Villa Fabricotti che sarà la sede dell'archivio noi abbiamo cominciato come Alinari a lavorare su Strand con una precedente mostra rispetto all'edizione alla ristampa diciamo del libro delle Naudi del 55 con una mostra nel 95 e relativo catalogo in versione italiana che era stato curato dal direttore dell'archivio Strand della fondazione Aperchure cioè Montoya la mostra si apriva ad Essen e poi girava per alcuni paesi non tantissimi perché si era andata a Monaco Adimburgo Bruxelles Zurigo Firenze prima di Zurigo hanno presso il nostro museo e noi avevamo curato l'edizione italiana cosa vuol dire curare l'edizione italiana e la mostra vuol dire che tutte le fotografie sia in mostra che la cura della stampa è stata seguita dalla fondazione Aperchure e in particolare dal famoso stampatore di Paul Strand Richard Benson che è stato fino all'ultimo con Paul Strand ed era che mi ha raccolto poi diciamo l'eredità per quanto riguarda la stampa tant'è vero che Richard Benson seguiva anche il processo di stampa per controllare appunto che fosse tutto secondo e desiderata di Strand in questo libro che magari vi mostro la copertina eccola qua ecco era l'edizione diciamo con un testo di Katrin Duncan ed era il mondo Paul Strand il mondo davanti alla mia porta che raccoglieva tutti i viaggi di Paul Strand non solo in Europa ma anche in altri paesi e ovviamente in questo c'è anche un paese naturalmente però senza il diciamo se non una breve introduzione una parte del testo di Zavattini e quindi le immagini come spesso richiedono i fotografi sono prive di dascalie e quindi rimangono con diciamo il linguaggio con il racconto del fotografo non accompagnato invece dal testo che per il libro di un paese era strettamente legato al testo di Zavattini e alle interviste nello stesso poco dopo anzi nello stesso anno è stato pubblicato su Fotologia era la rivista appunto di fotografia del museo dell'epoca di Alinari un testo di Virgilio Tosi appunto che commentava il suo essere stato un po' di questo incontro tra Zavattini e Strand riportando anche informazioni molto utili e interessanti che poi hanno portato alla come dire all'impegno tant'è vero ne viene viene ringraziato proprio Virgilio Tosi nella ristampa fatta da Alinari di un paese nel 97 che differenza c'è rispetto all'edizione di Inaudi innanzitutto nella copertina è uguale cioè sempre sul grigio c'è la famiglia Lusetti nella copertina anzi devo dire che è molto emozionante aver conosciuto anche se sul zoom il prete cioè Stefano Ressel è molto bello questo mi ha fatto molto piacere perché è un insomma un ritrovare una cosa che è molto ti colpisce molto non a caso ad esempio questa fotografia è stata ripresa da anche da alcuni miei studenti le hanno ripresa in senso come dire iconico rifotografandosi loro stessi però in realtà ecco questa fotografia era strettamente legata all'intervista che è pubblicata sotto a modi di d'ascalia ma autoreferenziale cioè dalle persone ritratte da parte di Zavattini e questo diciamo è il punto più importante cioè del collegamento estremamente forte che fra due personalità come Stan e Zavattini che fra di loro fra l'altro comunicavano probabilmente in francese ecco in quanto Zavattini non parlava inglese e Strand non parlava italiano quindi ecco anzi in alcuni casi ma successivamente è stato Valentino Lusetti a fare da interprete in certe circostanze fra di loro perché ecco quindi già loro forse avevano delle difficoltà di comunicazione ma si comunicavano appunto attraverso questa incredibile sintonia da una parte attraverso le parole dall'altra parole che si tramutavano in fondo in film no? come insomma era stato già detto film di carta no? in fondo da mattina era un regista e e queste questa immagine sì è vero emblematica iconica però che poi traduceva un messaggio vero e proprio cioè un racconto una e devo dire che poi questa queste fotografie hanno poi segnato in quella che era la la visione dell'Italia no? negli anni cinquanta un po' tutto il mondo ha visto l'Italia attraverso queste fotografie di di Strand la ehm il catalogo cioè l'aristampa ha accompagnato tra il novantasette e il novantotto la la mostra che è stata al palazzo dell'esposizione di Roma eh poi c'è stata un'altra sede della mostra a al miramare di di Trieste ehm mentre appunto il precedente catalogo aveva avuto questa sequenza più diffusa ecco di diciamo di esposizioni in tutto però con questa grande attenzione filologica proprio non solo alla stampa questo va da sé museo di fotografia fa molta attenzione al lavoro del fotografo ma in generale con grande rispetto anche diciamo eh del valore importante del libro tant'è vero che l'unica differenza che c'è tra nella copertina è che il nome dell'editore non è nel mezzo tra gli autori no tra Strende e Zavattini ma come di consueto viene messo in fondo in basso no nel nel volume questa è l'unica differenza che c'è nella copertina della ristampa diciamo della nuova edizione Alinari del 1997 ehm ci sarebbero tante cose da dire ma non vorrete diciamo ma so che qualcuno voleva fare delle domande Francesca forse avevo visto non lo so sono arrivate sono arrivate un po' di domande in grazie Emanuela in facebook e tra l'altro Francesca volevo salutare un attimo se posso Claudio e allora secondo solo abbiamo il direttore di fondazione quindi Alinari quindi un saluto doveroso buonasera Claudia grazie di essere venuta scusa Francesca prego grazie grazie Emanuela anche di aver partecipato grazie a tutti abbiamo delle domande su facebook ne approfittiamo per dire che adesso interrompiamo la diretta facebook e quindi Dome Gian Antonio è invitato a entrare in zoom e lui chiede diverse cose quindi riprenderei le parole di Emanuela per una prima domanda sul rapporto tra Strand e i Luzaresi cioè lui ti chiede come come si è andata sostanzialmente la la presenza di cioè insomma il lavoro di di Strand e il rapporto con loro poi vi giro anche le altre non so chi vuole rispondere se il timone come i Luzaresi hanno accolto allora non c'ero quindi sarebbe la prima risposta no è stupida chiaramente no vabbè ma è stato anche anticipato credo da da quello che ha detto Laura prima nel senso che vabbè la personalità di Strand è anche molto forte che intimoriva anche in un certo senso e la figura di Hazel in quel caso in questa campagna fotografica stessa missione di Strand che lo scrive nelle lettere in cui si scambia appunto con gli amici anche americani dice che è stata importantissima anche per entrare in rapporto con le persone di Luzaresi perché aveva un modo anche di fare diverso anche dal suo poi c'era a tenere presente anche un altro fattore che lui era un americano chiaramente fuoriuscito negli Stati Uniti per problemi in seguito al maccartismo negli Stati Uniti quindi la caccia alle streghe eccetera lui nel 49 si era trasferito in Francia però chiaramente in quel clima siamo nel 1953 se ricordate ci sono le famose lezioni della legge truffa ci sono delle foto di Hazel Strand che documentano le scene del mercato a Luzara che sono tappezzate da una parte di manifesti del partito comunista dall'altra parte di manifesti della democrazia cristiana cioè il clima politico era molto caldo e chiaramente agli occhi di un paese come Luzara di chiara impronta in quel momento antifascista che aveva subito anche un grave lutto proprio alla vigilia della liberazione tra il 14 e il 16 aprile del 45 sono stati fucilati per appresaia 12 ragazzi luzaresi e questi episodi vengono riportati dalle storie che Zavattini raccoglie in un paese ci sono due o tre testimonianze fortissime di questa anzi forse più di due o tre ce ne sono molte di più perché viene intervistata anche la madre dell'attuale sindaco Filippini che aveva perso l'altro fratello come partigiano poi in chiusa dice e oggi invece mio figlio che è stato torturato oggi è il sindaco di Luzara ecco quindi forse Strand in quanto americano chiaramente in quel momento c'era una dura contrapposizione tra i blocchi noi eravamo nella parte allo di Italia del blocco occidentale dall'altra parte c'era il blocco sovietico ma a Luzara c'era una metà predominanza della sinistra dell'allora patto tra il partito comunista socialista quindi diciamo che c'era anche questo forse come dire si tenevano a distanza da Strand non sapevano se era un infiltrato una spia ci sono state anche queste cose ecco poi in realtà forse questo bisogna sottolinearlo sia per Strand che per Zavattini il centro il cuore di questo lavoro ma credo il cuore anche di tanti tantissimi dei loro lavori sia l'uomo cioè al centro della loro ricerca c'è l'attenzione nei confronti dell'uomo non bisogna dimenticare che lo stesso Zavattini nel primo libro apre con parliamo tanto di me dicendo a me più che non mi interessano molti fatti ma interessano gli uomini quindi questa cosa lo porta avanti tutta una vita tutta un'esistenza il film La Verità dell'82 che è una sorta di testamento spirituale di Zavattini in cui non è solo il soggettista lo scrittore ma è anche l'attore il regista si apre con le parole uomo vieni fuori che continua a cercare quest'uomo che invoca l'uomo e quindi diciamo che una delle chiavi di lettura per Strane una delle cose importanti che l'hanno fatto poi ricredere su una prima impressione rispetto al paesaggio luzzarese rispetto alla difficoltà di fotografare luzzare è stato il contatto con le persone che ha sottolineato più volte anche nelle sue lettere essere persone straordinarie quindi lui è stato proprio accolto e la figura sicuramente di Valentino Lusetti come intermediario come una sorta di guida locale un po' come si fa nelle campagne di ricerca etnografica ed antropologica è stata fondamentale perché la capacità di dialogare con lui e forse anche l'accoglienza che ha trovato credo che insomma abbia fatto in parte anche ricredere grazie so che Davide ha delle domande però c'è Stefania che chiede qual è stato l'intervento di Calvino sul libro e quindi direi Laura dal carteggio e anche dalle testimonianze di Arturo Zavattini e Giovanni Italo Calvino era un redattore quindi entrato in sintonia ovviamente soprattutto con Cesare e quindi ha lavorato per limare questo testo che di cui Strand insomma vedeva la forma grafica non tanto i contenuti perché come abbiamo detto non sapeva l'italiano e quindi gli andava bene questa formula dell'intervista questa formula di raccogliere la voce delle persone ma non entrava poi in merito più di tanto tant'è vero che la sequenza delle immagini questo ritmo narrativo delle immagini segue un proprio ritmo narrativo e il testo di Zavattini con la redazione appunto di Calvino seguono questa impostazione fortemente voluta da Strand quindi è un lavoro redazionale un lavoro redazionale Zavattini fece vedere il Menabò a diversi altri scrittori che non capirono questo connubio tra testo e immagini perché dicevano ma tu grande scrittore grande intellettuale ti metti al servizio della fotografia ci sono delle testimonianze veramente interessanti lo stesso Zavattini dice in una conferenza stampa una grande scrittrice mi ha rimproverato perché ho pubblicato un libro con delle fotografie e quindi anche questo tema che per noi sembra sdoganato del rapporto tra testo e fotografia allora in quegli anni o c'era il libro di denuncia e quindi il testo era una delle semplici di Dastalie ma questo connubio così intenso proprio ancora non era non era messo a fuoco comunque Giulio Iaccoli ha colto veramente nel segno su questo rapporto tra testo e immagini e non dimentichiamo che Zavattini essendo appunto anche uno sceneggiatore un regista aveva questa grande dimestichezza tra immagini e parole e per la rivista Cinema Nuovo se non sbaglio aveva creava delle rubriche proprio fotografiche con dei testi che non erano di ascaliere delle fotografie ma erano testi veri e propri tant'è vero che lui sperimentava mentre Strand seguiva la sua strada a luzzare a fotografare a cercare nuovi scorgi con la moglie Ezel lui sperimentava questo rapporto tra testo e fotografia attraverso la rivista Cinema Nuovo grazie io se posso volevo chiedere un approfondimento sul rapporto proprio personale tra Zavattini e Strand anche in relazione un po' a una cosa che che ricordavi Laura tu prima ma anche che lega un po' questo equilibrio tra foto e testo cioè il fatto che lui si immaginava Italia mia con questi giovani fotografi poi si vede arrivare invece un autore non solo non giovane ma assolutamente potente e autorevole e mi sono fatto un po' l'idea che abbia dovuto subire tanto forse Zavattini qualche concessione o no oppure come era come è stata questa storia insomma se ci potete dire qualcosa subire non credo lui è stato un grande mediatore ad esempio quando Einaudi decise il compenso per i diritti d'autore Zavattini rifiutò i propri diritti di compenso dei diritti d'autore a favore di Strand perché Strand voleva una percentuale altissima che non era comprensibile accettabile nel mondo dell'editoria italiana ma anche europeo europeo soprattutto in Francia dove o in Svizzera dove appunto nacquero i primi fotobook cioè Zavattini non creava conflitti cercava di risolvere i problemi quindi non subiva rinunciava per portare a termine il suo progetto perché lui aveva ancora in mente questa collana di libri fotografici Italia Mia tant'è vero che uscì un altro libro già pagato su Napoli per un editore tedesco perché il fotografo fece uno sgarro ci sono le lettere di scusa a Zavattini che uscì prima in Germania e poi in Italia senza però riportare che il progetto era già stato pagato dell'editore con il nome della collana Italia Mia Zavattini non si adirò di sé che era dispiaciuto ovviamente però l'importante è che questo libro su Napoli fosse uscito era una persona delle grandi doti doti umane e di grandi doti di mediazione quando Einaudi decise di ristampare il volume Zavattini si recò a Parigi nei suborghi di Parigi per chiedere appunto a Strand aveva voglia di riprendere in mano il libro ma era molto malato e quindi e ci fu un'intensa un intenso carteggio Strand mandava delle fotografie dei provini a contatto a Cesare Zavattini che sono conservati in biblioteca Panizzi nell'archivio di Cesare Zavattini e quindi anche se non sapevano inglese Zavattini e Strand avevano trovato un loro canale sotterraneo due due grandi insomma uno nella letteratura e nella fotografia per comunicare il rapporto di Strand con la gente io dalle lettere che abbiamo potuto leggere era molto incuriosito da questo blando paesaggio no? questo blando paesaggio che subito non gli diceva nulla che in realtà poi svelò grandissimi segreti no? perché Strand era quasi ossessionato nel fotografare la condizione umana e così fece quando andò in Africa in Ghana questi ritratti stupendi che se voi guardate attentamente queste immagini questo volume appunto sul Ghana e poi un paese trasportato in Ghana no? c'è sempre questa immagine iconica molto forte nel cercare negli occhi delle persone la loro anima quasi scavare anche nei filmati che ho visto a Londra della mostra di Strand a Londra non gli interessa la persona in quanto tale in quanto luzzarese ma proprio come condizione umana Elia Luzzare aveva trovato quasi il là di una grande sinfonia no? quello appunto di indagare questa condizione che a lui stava molto a cuore non dimentichiamo che lui era di famiglia ebraica dovete scappare dall'Europa andò negli Stati Uniti e poi ovviamente di idee molto aperte dagli Stati Uniti dovete ritornare in Europa perché col mattartismo insomma era stato diciamo così schedato e quindi lui anche la sua condizione umana era molto molto provata molto messa a dura prova e quindi questi temi a lui erano molto cari anche pur non praticando una fotografia di di reportage una fotografia sociale no? tutt'altro ma dice una cosa molto bella Claudio Parmigiani che dice l'umiltà e l'umanità di uomini dai volti dolorosi e nobili come quelli di Mantegna cioè questa è un'immagine che ha colto Claudio Parmigiani mentre seguiva naturalmente questo lo scrisse a posteriore perché lui era un bambino mentre seguiva Strand nelle valli di Luzzare nelle aie di Luzzare in luoghi che lui stesso viveva come una condizione da bambino di famiglia molto umile molto povera però arrivò questo personaggio che gli insegnò a vedere la dignità l'onestà e poi il testo di Zavattini ha fatto il resto grazie posso aggiungere una cosa? sì ecco no sempre perché questo rapporto tra appunto che veniva chiesto ma come faceva con Zavattini a contrastare o meno oppure era post-rend che contrastava Zavattini in realtà appunto come giustamente ha detto Laura non c'è stata questa problematica o meglio se c'è stata comunque sono riusciti poi in qualche modo a sistemarla molto più difficile è stato invece cioè il suo rapporto ad esempio con perché a volte appunto post-rend era molto rigido su queste cose non si discute cioè Zavattini era è stato molto bravo anche aiutato dai Virgilio Sosi per carità a cercare di trovare una un dialogo o comunque a far comprendere diciamo delle difficoltà a post-rend ma ad esempio con il direttore di Aperchuk con Hoffman cioè si sono quasi litigati o meglio lui era già abbastanza anziano e per cui quando hanno dovuto scegliere le fotografie per la mostra di Filadelfia o almeno così riporta la Catherine Duncan cioè non voleva assolutamente che Hoffman mettesse mano a niente finché poi è stremmato vista l'età la cateratta che incombeva e ha detto vabbè fai tu non ne voglio più saper niente se non entrando poi con la moglie all'inaugurazione della mostra quindi anche caratterialmente cioè Strand era veramente un personaggione cioè un tosto e nel carteggio dell'Einaudi con Oreste Mollina che era il direttore editoriale dell'Einaudi quando facevano le prove di stampi negli Eugravure e come credo di averlo detto seppur velocemente Strand viveva queste prove di stampa che erano prove e quanto tali erano prove vivevano come gravi inmenomazione del suo lavoro c'era questa epica del lavoro del fotografo e questa cosa qua cioè Zavattini che ha lavorato con grandi artisti con grandi registri con grandi scrittori molto probabilmente sapeva e sopportava e comunque è stato un grande a mio modesto modo di vedere anche Zavattini no no assolutamente nella storia di questo rapporto ma anche anche Calvino anche Oreste Mollina e anche Giulio Einaudi che poi sapete che questo libro poi dal punto di vista commerciale fu un fallimento perché Einaudi voleva mettere un costo adesso non ricordo più scusate anche l'ora tarda vuole fare un'edizione più popolare ma invece lui diceva no deve essere un libro da collezione quindi il prezzo deve essere altissimo Einaudi disse ma io allora non lo vendo infatti ne vendete pochissime copie e anche questo è indicativo proprio delle aspettative però di questo grande fotografo che poi era un isolato ormai era l'ultimo antesegnale del modernismo alla Steichen quindi ben lontano da tutto quello che noi dobbiamo parlare in quegli anni lì nel 52 ormai Eric Cartier-Bresson e tutti questi altri grandi avevano aperte nuove inedite forme di ricerca nel mondo della fotografia Grazie Per raggiungere solo una cosa inchiusa sempre sulla domanda che ha fatto Davide del rapporto anche estremi da Lattini o credo che sia poi molto significativo questo volume che raccoglieva proprio le lettere che si sono scambiati dal limite dalla prima lettera alla costruzione del progetto di un paese autorato da Elena Gualtieri e si vede benissimo anche la stima che avevano uno per l'altro poi bisogna anche dire che nell'ambito della costruzione del progetto quando Strand fotografava Luzzara Zavattini non c'era cioè Zavattini i testi li scrive poi ci vedono poi tre volte ma si li scrive molto più tardi quindi alla fine del 53 va a Luzzara una settimana molto intensa in cui lui ha già visto le fotografie e va a ricercare le persone ritratte per intervistarle e quindi fa proprio un periodo dal 30 dicembre mi sembra fino ai primi di gennaio e poi ritornerà sui testi anche nel periodo di marzo quindi non sono proprio vicini però bisogna anche dire che poi Zavattini aveva sempre avuto una grande ha sempre riconosciuto il lavoro di Strand anzi addirittura aveva detto che lui era nato due volte Luzzara la prima volta c'era nato fisicamente e la seconda c'era nato con un paese questo perché ha detto che per la prima volta lui era entrato davvero in contatto con le persone di Luzzara grazie a questo libro perché non dobbiamo dimenticare che Zavattini vive a Luzzara solo i primi otto anni di vita stabilmente poi comincia a fare le scuole elementari a Bergamo poi studia a Parma poi si trasferisce a Milano poi si trasferisce a Roma cioè a Luzzara c'erano dei ritorni dei continui ritorni ma dal 1930 quando muore il padre Arturo Zavattini lui ha ripreso il nome anche il figlio di Cesare loro abbandonano Luzzara quindi diciamo che un paese è il primo rinnovo diciamo il primo contatto dopo anni in cui la famiglia Zavattini non era più a Luzzara e questo è stato molto importante lui l'ha sottolineato più volte per riallacciare proprio un rapporto con il paese natale quindi credo che ci sia proprio profonda anche gratitudine a questo lavoro di Strand e nei test di Zavattini che hanno che ha riproposto negli anni Ottanta anche per Portfolio 4 per i libri anche di Strand ci sono proprio queste testimonianze di profonda stima nei confronti di Strand Grazie Penseremo di chiedere anche di intervenire di nuovo agli accoli e magari proprio anche in relazione al rapporto tra fotografo e scrittore visto che lei ci ha parlato di celati di ghirri e di messori e fossati per esempio e gli esiti sono molto diversi da quello che vediamo con un paese o con altri progetti quindi da una parte le chiederai forse quanto incide il rapporto che due autori di diverso linguaggio hanno fra di loro e dall'altra quelli che poi sono stati appunto questi esiti nei diversi libri che ha citato prima eh sì è molto ampio come discorso avevo già parlato troppo ma direi solamente questo che certo senza dubbio si vede insomma pure schiacciandosi il viaggio in un paesaggio terrestre in un diciamo in un pressoché totale come dire eh assenza di parola da parte del fotografo in realtà le sue immagini mostrano una piena sintonia con commessori si vede che proprio ecco c'è questo che è un aspetto che forse può complicare no la situazione di base di un solo luogo di Luzzara come appunto eh diciamo prisma attraversato da riflessi letterari e riflessi invece della fotografia qui c'è un percorso ecco è un'evoluzione forse di questa forma dell'osservazione locale che passa attraverso questi quattro mi sembra eh diari di viaggio che 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 Messori scrive e che sono fittamente contraputati da quelle che sono le le immagini fotografiche si vede che funziona davvero in maniera eh molto concertata insomma molto eh legata e accordata tra scrittura e fotografia questa decisione del percorso da svolgersi e c'è ancora quello che forse si potrebbe dire insomma cercando un po' di intenderci una una specie di procedimento postmodernista che eh è ben leggibile che è quello di scegliere come dicevo luoghi che sono quelli che eh filtrano da pitture eh o fotografie appunto celebri ma in modo particolare è pittura di paesaggio e quindi tornare su quei luoghi aprirli riraccontarli attraverso una un'immagine fotografica che documenti l'oggi di quella e la scrittura che la racconti questo per dire che messori fossati appunto eh lavorano in grande eh sintonia e questo non lo dico più perché l'ho già detto più volte ma anche appunto eh con un piano d'azione che 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 seguono che rispettano senza dubbio aperto probabilmente all'inaspettato a deviazioni a diciamo eh anche folgoranti eh revisioni folgoranti apparizioni che portano a far rivedere a ripensare il percorso svolto ma che procede però appunto con questa grande sinergia viceversa direi che l'altro diciamo grande appunto fototesto dove appunto la parola dello scrittore avrebbe questo lavoro questo come dire compito prefattivo dovrebbe limitarsi alla sola prefazione che è quello di celati con gherri e in realtà ancora una volta sia un testo e sia un rapporto diciamo mediato da questo rapporto testo immagine particolarmente innovativo perché non solo l'apporto dello scrittore non si limita alla prefazione ma quelle che sono delle parole chiave contenute delle frasi che stringono particolarmente un'interpretazione delle fotografie delle diverse tavole che compongono il libro fotografico di Gherri ritornano come in un qualche modo come frammenti scelti o appunto estrapolati dall'introduzione sotto forma di della scalia quindi quello che sono appunto le come dire le regole grammaticali gli elementi diciamo tradizionali consueti delle relazioni fra letteratura e fotografia vengono a essere rivisti vengono a essere rimescolati rimessi in gioco con un avanzamento ecco direi anche questo che da un lato ho già detto insomma di come Gherri mostri accelati in un qualche modo una grammatica dell'inquadratura qualcosa che non è immediato recepire nella nostra analisi letteraria ma che dobbiamo presupporre appunto come uno stile un modo di guardare di raccontare che passa attraverso l'insegnamento della fotografia dall'altro lato è anche l'incontro fra due grandi solitari uso il termine non a caso perché è celati insieme a Daniele Benatti cura e diciamo traduce una serie di racconti che purtroppo non sono più disponibili anche qui che io sappia usciti dalla Burrizzoli qualche anno fa intitolato storie di solitari americani che è una antologia del racconto americano dall'ottocento da Poe da Melville da Hawthorne fino ad arrivare appunto alle scritture diciamo di metà novecento negli anni cinquanta del novecento un libro bellissimo ma l'idea è che nella figura del solitario del marginale di chi vive sbrancato ai margini della società ci sia e forse che molto spesso viene visto come tale ci sia un modo anche di rappresentarsi raccontarsi di entrambi di Ghirri che ci ricorda il mondo di Luigi Ghirri questo omaggio poetico in forma di documentario diretto da Celatti stesso di Ghirri che era noto per il suo essere completamente avulso dalle cose del mondo che si perdeva che appunto era famoso per le dimenticanze di cose in albergo che diciamo è una figura appunto tutta presa da questo mondo poetico che la fotografia e la realizzazione come fotografo gli hanno permesso di vivere di inseguire e dall'altro lato un Celatti che si auto rappresenta come una figura ai margini in maniera davvero esemplare nei diari in questi racconti di osservazione come li chiama lui che compongono verso la foce in cui cammina in questa postura come l'adritratto Luigi Ghirri in un paesaggio nebbioso che sarà poi la copertina di narratori delle pianure però immaginiamocelo che cammina un po' con la schiena incurvata a scrivere ad annotare cose sui suoi quadernetti mentre percorre strade laterali che percorrono la pianura intercomunali vicinali oppure ai margini appunto fuori da un bar da un ristorante sulle strade di più ampio scorrimento della pianura padana sollevando appunto la curiosità delle figure che diventano sue interlocutrici all'interno del libro o la perplessità la incapacità di vederlo come un proprio pari una figura affidabile da parte degli automobilisti che si continuano a percorrere queste strade di grande scorrimento e non si rendono conto appunto o vedono come particolarmente stradulato e impensabile un soggetto che continua invece ad andare a piedi come se in tutto questo ci fosse da parte di Celati la denuncia di un mondo che lui vede nelle sue parole negli anni Ottanta come irrimediabilmente americanizzatosi un mondo ad alto scorrimento dove la gente continua ad andare in macchina da luogo di residenza al luogo di lavoro senza riuscire invece ad avere gli occhi aperti e la possibilità di annotare quello che vedono appunto nel paesaggio circostante ed è insomma in un qualche modo forse anche questo il segno di un allineamento tra due figure che si sono conosciute da grandi diciamo quando già avevano appunto raggiunto una loro fisionomia e una loro davvero un loro rilievo personale come artisti ma che forse si trovano anche nella comune non accettazione delle logiche convenzionali nel loro situarsi ai margini della società è forse davvero un po' come un segno distintivo farsi fotografare farsi raccontare appunto come solitari che hanno messo in comune le loro esperienze hanno condiviso un certo sguardo al mondo esterno al paesaggio e alla società che raccontano certo Ghirri è noto per tagliare un po' fuori le figure umane mostrarle sfocate mostrarle in momenti diciamo molto contingenti e però a ben vedere a partire appunto dalle prime prove fotografiche c'è sempre comunque questa saldatura tra la figura umana e il paesaggio che poi naturalmente prende a essere diciamo riconceptualizzata ci saranno mappe atlantiche prendono il sopravvento però c'è uno sguardo comune in questo nel vedersi a lato e osservare gli altri osservare il mondo che mette davvero in comune questa poetica e credo che anche in questo insomma la lezione diciamo di quella che Celati definisce la grande dignità che hanno saputo dare Stranger Zabattini al mondo rappresentato in Cida sia qualcosa di particolarmente presente che Ghirri trasla appunto in queste immagini rubate in queste figure viste di spalle o figure inquadrate mentre guardano un quadro che sono così appunto caratteristiche di questo sguardo al quadrato Ghirriano e che invece Celati osserva appunto sempre da questa sua prospettiva di solitario che percorre la sua strada incuriosito dagli altri ma che appunto vede tutto come in una sorta di più ampio quadro del mondo esterno in cui si sono ricomprese anche come presenze figuranti comparse anche gli esseri umani in mezzo a un mondo naturale che scruta con particolare intensità e attenzione grazie Giulia grazie dunque sarebbe arrivata l'ora della chiusa finale purtroppo io innanzitutto ringrazio tutti gli ospiti tutti i partecipanti ringrazio Simone ringrazio Laura ringrazio Giulio ma anche Emanuella e Claudio Varoncini e tutti gli altri però prima di chiudere e comunque eventualmente per chi vuole continuare a chiacchierare c'era una piccola breve secca e forse difficile domanda che penso diretta Laura e Saverio chiede quindi ci giochiamo questi ultimi minuti su questo in questa epoca di bulimia di immagini come raccontare un paese oggi dove non so se intenda raccontare l'opera un paese o un altro paese un altro qualsiasi paese per rimanere in tema come raccontare il libro chiedo Saverio di scusate no intendevo come raccontare un altro paese un altro paese il mio paese ad esempio ma io penso che i linguaggi le modalità gli strumenti siano totalmente diversi da quelle intraprese da strand in un verso e anche la lingua stessa dei zavattini da un l'altro no in questo excursus di cui proprio sono rimasta affascinata di Giulio Iacoli io penso scusate Laura Tarda mi sfugge il nome di questo grande giornalista di Repubblica che gira tutta l'Italia Giulio aiutami pensi a Paolo Rumiz bravo che lo conosco anche scusate Laura Tarda Paolo Rumiz che si serve anche di giovani registi ma anche di fotografi fotografi che però non devono essere assolutamente importanti e che mentre scoprono l'Italia che hanno percorso tutta la via a piedi tra l'altro a proposito di lentezza scoprono come raccontarla e scoprono come fotografarla quindi non hanno un'idea preconcetta e quindi questo è una modalità veramente interessante insomma che gli artisti ci sorprendono personalmente io in uno scrittore o in un fotografo in un artista non chiedo non cerco e non mi chiedo sei bravo io cerco e chiedo se mi insegna qualcosa qualcosa di nuovo un nuovo modo di vedere un nuovo modo di percepire di sentire di capire no è chiaro che a volte lo strumento non può essere un unico strumento la parola può essere solo la fotografia ormai no cioè io penso che questo connubio tra testo e fotografia perché si è saldato perché forse anche noi siamo cambiati no abbiamo bisogno riusciamo a creare più sintonie tra linguaggi diversi abbiamo rotto le barriere dei generi no in letteratura poi Giulio questo questo è la sua materia non voglio entrare però insomma la pandemia mi ha permesso di leggere tantissimi libri e quindi non c'è più il genere del romanzo puro come abbiamo studiato al liceo no ma si sono contaminati e ci sono pagine e pagine di saggi all'interno dei romanzi stessi e quindi e la volta la forma narrativa in un saggio anche scientifico può essere molto più efficace che non un linguaggio tecnico e quindi è questo forse cioè non so se quale sia il nuovo modo di rappresentare un paese però sicuramente la sperimentazione la ricerca personalmente mi dicono tanto perché comunque qualcosa si scopre qualcosa si capisce e la forma estetica finale forse non deve essere più una preoccupazione almeno mi auguro come lo era ad esempio per Strand non lo era certo per Zavattini no tanto è vero che affidava a Calvino le censure le censure in senso così di abbreviare i testi di cambiare una parola perché stessero nella gabbia tipografica non tanto per cambiare il senso e quindi questo è tutta una riflessione che questo libro sicuramente ci ha insegnato ha rotto i generi quello che a me colpisce ancora molto che ha rotto i generi grazie prego grazie Saverio vorrei autocitare sempre la mostra che andai inaugurare perché la chiuderemo con due progetti che vengono curati da Alessandro Koch Alessandro Embriaco in collaborazione con il GCD che sono realizzati a bello sguardo e ad Atena e sono proprio diciamo presenti in mostra perché ci vediamo una partenza molto vicina alle motivazioni che sono proprio quelle di raccontare il paese un paese diverso e viene fatto in maniera completamente anomala rispetto al modello di cui stiamo parlando quindi vale a vedere se vuoi anzi Francesca sicuramente ci lancia qualche link oppure oppure non lo mandare il link e vieni a Sardana a vederti la mostra insomma sì perché no perché no perché è un argomento che veramente ha a che fare proprio con con la vita di tutti non solo con la fotografia e quindi grazie per l'ospetto grazie per l'ospetto intanto allora per rispondere a questo lancio imprevisto vi metto quello di bello sguardo che è stato realizzato in collaborazione con l'ICCD che è l'istituto centrale per il catalogo e per la documentazione del ministero Archivio Atena è sostanzialmente il fratello di questo progetto ed è stato realizzato con l'Isia di Urbino quindi se cercate l'Isia Urbino Archivio Atena e seguite spazi fotografici trovate informazioni comunque è un progetto realizzato con gli studenti per lo più fotografico ma anche con testi fotografie delle famiglie raccolte e installazioni di video e frasi di paese insomma sono borghi molto piccoli molto più piccoli di Lussara credo duemila abitanti va bene allora io darei un saluto un ringraziamento veramente ufficiale in modo che se qualcuno volesse staccare la telecamera senza sentirsi l'imbarazzo è autorizzato a farla quindi buonanotte a tutti veramente grazie di cuore per i vostri contributi per la vostra partecipazione per chi ha ascoltato e per chi ha fatto domande e soprattutto per chi ha risposto grazie mille per chi ha risposto